Allora ragazzi, buongiorno, si sono un pochino abbrustolito, mi vedo ovunque super rosso Comunque siamo tornati, siamo tornati a Verona, adesso sono le 10, quasi le 10, sono sveglio da un paio d'ore ma mi sono fatto tutte le cose con calma, oggi un bel po' di cose da fare, fare le lavatrici perché domani riparto per Napoli anzi Montella, e ora faccio colazione, devo iniziare a editare tutti i video di questa vacanza il video Uzzo, quello finale, grosso, ci metterò un po' a pattorirlo, probabilmente adesso devo fare i vlog perché tutti i giorni alle 11 e io adesso sono un po' a ritardo con tutto e il mio buffer sta finendo, se ne carica uno oggi e uno domani e poi basta e quindi devo agire, agire, detto questo, io mi voglio mangiare, mi faccio una spremuta, si chiama spremuta? oh, vabbè insomma, no, il frullato, mi faccio il frullato con tre banane, quindi sarà una cosa super bella intensa dicevo, qua sto mettendo i succiletti e quindi devo mangiare sano assolutamente anzi adesso mi peso così scopro quanto sono ciccione e poi mamma mia che casino, troppe robe da fare, dai ci sentiamo dopo allora, mille attività oggi, in primis, sono, mi sono svegliato, ho fatto una bella colazione e ho iniziato a editare i video tutti i video di questo mondo aspetta, ma ho chiuso tutti i video di questo mondo però ho dovuto editare tutti i video della Sardegna e sistemare anche alcuni vecchi creare le fan mail, caricare i video mi hanno detto, mi hanno detto, dedicato tutta la mattina poi il pomeriggio, guarda, io sono bravo perché questi sono i vestiti che dovrei mettere domande a valigia e devo ancora fare la valigia, ho fatto domani mattina ma, oh, prendimi ma ora non ho voglia di fare la valigia sinceramente la faccio domani mattina, ora sono stanco, voglio andare a letto e devo fare almeno un video per voi perché sennò non si fa soltamente niente ah, mi devo portare anche il lettino perché in teoria si va in campeggio quante belle attività fatto sta che ho editato questi video dopo il franzetto mi sono fatto degli hamburger e delle patate ho chiacchierato un pochino con mia sorella perché sennò non c'è mai l'occasione di fare queste cose poi l'ho accompagnata alla stazione perché lei oggi va in Sardegna quindi oggi, quest'anno tutto in Sardegna non chiedetemi come mai ho tutti i vestiti comunque ragazzi potete capire che questa stanza è un maschio perché vedete tutti i vestiti qua sul letto e una spada a caso nel muro e le farfalline vabbè comunque ho fatto questo ho fatto questo e poi successivamente ho visto un bel po' di persone perché a fine ieri il compleanno che vi dicevo non ci sono andato perché sono arrivato troppo tardi hanno finito mezz'ora prima che io arrivassi a Terrasse a Verona venti minuti prima quindi non sono riuscito in tempo qui ho visto Antonia la festeggiata che avete visto anche il mio compleanno e oggi ci sono fatti un aperitivo un po' di aggiornamento tutto molto in tranquillità mi sapevo prendere anche il ventilatorino perché non lo vedo qua in questa stanza vabbè quello poi successivamente diretto mi sono beccato con una mia amica che vive in Francia e mi ha ogni tanto tornato qua in Italia visto che l'avevo fatto delle foto mesi mesi fa lei e il suo strumento e gliene servono e altre che dobbiamo organizzare pure quello shooting quando torno da Napoli da domani quindi settimana prossima immagino boh chi è che mi scrive adesso mezza volta e mezza mamma mia successivamente cosa è successo dopo di quello ho fatto un altro aperitivo poi sono tornato a casa c'è anche l'altro mio fratello quindi ho chiacchierato un pochino con il fracatello e ho mangiato molto leggero mi sono mangiato due uova una pesca e del tonno in scatola quindi super leggero ragazzi io non posso essere ciccione dopo sono uscito per un altro aperitivo tutto molto in tranquillità e adesso siamo qua a mezzanotte e mezza che devo ancora fare la valigia che io domani parto per Napoli alle 9 alle 10 devo essere fuori di qua alle 11.45 ho il volo quindi forse dovrei partire anche un pochino prima mi pare che sia alle 11 fammi controllare ci sto nel dubbio sapete che ho fatto anche lo scanisho ad oggi che sono riuscito a fare il check in perché l'aria nera ha funzionato a differenza di Volotea 11 che chiude alle 11.15 del 10 agosto alle 11.15 chiude io vorrei essere lì alle 10.50 sto 10.45 quindi 10.30 si devo partire 10.15 giù di lì mi sono svegliato alle 8.15 giusto per essere tranquilli e e dai e domani non vedo l'ora devo andare a trovare Alessia che è una 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 del mio gruppettino dell'Erasmus che poi io lo chiamo Erasmus così capite in verità ero iscritto all'università francese in teoria sono uscito con una laurea francese e una spagnola nella magistrale almeno e e quindi si riesce e quindi sono felice perché finalmente vado a vedere Montella che è famosa per un sacco di cose e non solo per l'allenatore mi pare tutti non so quando parlavo con i sardi che va da Montella tutti parlavano di uno del calcio io non conosco cioè se scrivo Montella su Google cosa mi viene io non seguo minimamente queste cose allora proviamo Montella Montella chi viene fuori Vincenzo Montella allenatore di calcio esatto sì perfetto allenatore ex calciatore italiano ruolo attaccante vabbè insomma abbiamo capito ragazzi che io non capisco nulla di calcio niente detto questo ragazzi questo è un aggiornamento molto affiato di questa giornata cioè non non sono riuscito a fare molto oggi cioè potevo mettermi lì a fare timelapse così ma dopo questi giorni il tuo piano allora eia con calma e e quindi dai come al solito mettetevi in piace commentate scrivetevi al canale mi spiace che a volte alcuni video sono più intensi come tutti quelli che avete visto questi giorni invece altri sono un pochino più tranquilli come questo che sembra un one on one con lo psicologo alla fine sembra veramente una sessione terapeutica un confessionale bene ragazzi io vado a letto si stiamo qua a due cose per il ventilatorino e noi ci vediamo domani per un prossimo video e bacioni